Il comitato italiano paralimpico Piemonte in collaborazione con Autonomy, il programma per la mobilità di Fiat Group Automobile con il supporto di Fondazione CRT. Benvenuti e benvenuti alla terza puntata di Gisport, il nostro programma dedicato a sport e disabilità. Il tema di questa puntata è l'avviamento dello sport attraverso enti e strutture come l'unità spinale e INAIL. E ho con me vicino come sempre la nostra presentatrice Diva, Silvia Bruno. Diva, no, presentatrice neanche. Buonasera a tutti, grazie. Silvia, ma sai che ci guardano in tanti, ci sono le famiglie, i ragazzi, è tutto merito tuo. No, spero di no, sono contenta che ci guardi in tanti, ma sicuramente non è merito mio, ma è merito degli ospiti che abbiamo, dei temi di cui parliamo. E anche questa volta abbiamo grandi ospiti. Abbiamo quattro ospiti, non abbiamo Tizia LaNazi perché è impegnata in Russia. La salutiamo con un bacio, un abbraccio. Però abbiamo ospiti importanti, iniziamo subito a presentarli. Andrea Pontillo, che è un tecnico di scherma in carrozzina ed è presidente della società Lamerotanti, che è la prima società in Italia interamente dedicata, diciamo, alla scherma in carrozzina. Poi abbiamo una grandissima atleta, Patrizia Sacca, atleta di tennis tavolo e anche consigliera del Comitato Provinciale CIP. Alla sua destra, Davide D'Amosso, assistente sociale INAIL, che ci aiuterà a capire come lo sport disabili è nato in Italia e come l'INAIL continua ad aiutare questo movimento. E infine la dottoressa Maria Vittoria Actis, che è la direttrice dell'unità spinale unipolare di Torino. Volevo proprio iniziare dagli ultimi due ospiti che abbiamo presentato. Abbiamo detto che l'avviamento allo sport attraverso unità spinali è INAIL. Forse l'INAIL, insomma, sicuramente è più noto come nome, come SILA, forse un po' meno le unità spinali. Quindi io volevo subito partire dalla dottoressa Actis, chiedendole di spiegarci bene che cos'è un'unità spinale. E magari anche partendo dalla storia di quando è nata a Torino, quando si chiamava ancora CRF. Sì, per circa 30 anni la cura delle persone con lesione midollare a Torino è avvenuta presso il CRF, centro di rieducazione funzionale, che era sito al Colle della Maddalena. Ovviamente in questa struttura veniva svolta la fase riabilitativa, quindi le persone arrivavano dopo un certo periodo dall'evento traumatico. Nel 2007, invece nel luglio 2007, l'unità spinale si è trasferita giù al CTO, nella sede proprio antistante, il centro traumatologico. E quindi è stata realizzata l'unità spinale unipolare. Che cosa si intende con questo termine? Si intende la presa in carico della persona con lesione midollare dal momento della lesione, del trauma o dell'evento comunque scatenante. Quindi la presenza di tutti gli specialisti che devono comunque essere coinvolti nel percorso di cura. Dagli anestesisti al chirurgo vertebrale, il neurochirurgo, il neuroradiologo, il fisiatra, l'urologo, tutti. Ecco, con il passaggio dal CRF al CTO si è realizzata questa unipolarità. Ovviamente questo significa la possibilità di avere contatto sin dalla fase dell'emergenza con la persona e seguirla poi in tutta la fase successiva fino alla dimissione e al reinserimento a domicilio. Quindi una parte molto importante per le persone, fondamentale per le persone che dopo un incidente devono ricostruire la loro vita, quindi a partire dal processo riabilitativo, eccetera. Invece parlando di INAIL, così introduciamo tutti e due i termini dell'avviamento dello sport di cui vogliamo parlare oggi. L'INAIL è stato, possiamo dire, l'ENT che ha portato in Italia lo sport di disabili tra gli anni 50 e gli anni 60, grazie ad un personaggio molto importante, il dottor Antonio Maglio, che era direttore del centro paraplegici INAIL di Ostia, che ha, prendendo un po' lo spunto dal lavoro che stava facendo un altro medico in Inghilterra, cosa ha fatto? Spiegherò un po' tu. Intanto dovremmo vedere le immagini di un DVD con immagini di repertorio delle Paralimpiadi di quelle che poi sono chiamate, sono state chiamate le prime Paralimpiadi di Roma del 1960. Grazie per la parola Silvia. L'INAIL è stato antesignano e ha portato lo spirito sportivo anche in favore delle persone con disabilità. Come hai detto giustamente Antonio Maglio, che è un noto medico INAIL, dal 1956, presso il centro di Osea, che era Villa Marina, ha portato in Italia tutta una serie di interventi riabilitativi con un'ottica particolare anche focalizzata sull'attività fisica e sportiva e quindi cercando appunto di far sì che con lo sport si potesse garantire un ulteriore intervento in favore di persone che avessero avuto una disabilità. Il centro di Osea appunto era una struttura INAIL per cui si occupava prettamente di persone che avevano subito un infortunio sul lavoro e col tempo da questa prima esperienza poi è nato, possiamo dire, il movimento Paralimpico in Italia. Esatto, esatto. Infatti il dottor Maglio, riprendendo le idee del Ludwig Gutmann, che era il primo proprio al mondo, un dottore inglese che dopo la Seconda Guerra Mondiale pensò che lo sport, la terapia e l'obiettiva sportiva potesse essere utile ai veterani della Seconda Guerra Mondiale. Quindi lui iniziò ad organizzare dei giochi in Inghilterra e Maglio, proprio alla fine degli anni 50, chiese ebbe l'idea di portare questi giochi a Roma come evento successivo a quelle che furono le Olimpiadi del 1960. E da lì poi partì tutto, anche qua da noi. Adesso è ora di vedere il primo filmato di oggi ed è l'intervista ad un personaggio che è molto... Straordinario. Di voi, sì, esatto, che chi ha seguito negli ultimi anni lo sport disabili conosce bene, perché si tratta di Paola Magliola, che è un personaggio vero e straordinario, che negli ultimi 15 anni almeno... La regina. Sì, sì, la regina dello sport disabili piemontese, no, le farà molto piacere. Paola Magliola è delegato provinciale del Comitato Paralimpico di Biella, ma è anche referente a INAIL per tre province del Piemonte, Torino, Biella e Vercelli. E quindi, insomma, senza dubbio una panoramica completa sui temi di cui stiamo parlando, ma sullo sport disabili in genere. Vediamo l'intervista insieme e poi magari ne riprendiamo. Sono stata nominata commissario nel 96, febbraio 96, perché il Comitato era caduto. Sono stata nominata commissario, quindi io da Biella, dove ero delegata provinciale, mi sono trasferita in Torino per lavorare per la mia federazione. E a Torino mi sono accorta che pochissimi conoscevano il nostro sport. Mi ero avvicinata allo sport per disabili perché ero inserita in un gruppo di persone che cercava di gestire in Biella le problematiche dei disabili, a livello di volontariato naturalmente. In questo gruppo è venuta fuori l'idea dello sport ma vaga. Dopodiché siamo partiti e abbiamo voluto costituire la polisportiva indica biellese. Lo sport c'era, c'erano gli atleti, non era conosciuto. A questo punto ho deciso che lo sport per disabili doveva diventare una cultura, a livello conoscerlo, a livello culturale. Una grande cosa sono state sempre le Paralimpiadi. Dopo le Paralimpiadi di Barcellona e di Albertville qualcosa si conosceva un pochino di più, ma sempre poco e siamo già nel 92. L'Esploit è arrivato con Torino 2006, insisto. Siamo arrivati a Tiziana Nasi. Come è andato questo abboccamento? Allora, la polisportiva indica biellese aveva ricevuto l'incarico di organizzare il quarto campionato italiano di sci per disabili. Lei ha dato la sua disponibilità, ci ha offerto il Sestrier praticamente per fare la nostra manifestazione, perché noi non sapevamo più dove andare. Ed era la prima volta che il campionato di sci arrivava in Piemonte. Tiziana è stato il nostro mezzo e poi invece è stato il grande destriero, perché ha trascinato effettivamente lo sport per disabili alla notorietà. Quali sono le prossime sfide? Allora, lo sport per disabili, ormai con il nuovo presidente Pancalli, che è veramente in gamba, lo sport per disabili è entrato a far parte di tutta la gamma dello sport, a tutto titolo. Dal 2003 il CIP, così si chiama attualmente dopo aver cambiato nome per parecchie volte, il CIP è l'unico titolato a gestire lo sport per disabili. Adesso ogni federazione dovrebbero avere il settore disabili. Ogni federazione. Questo movimento di inserire in ogni federazione il settore disabili sta avvenendo in tutto il mondo. Cioè noi non siamo né troppo avanti né troppo indietro. Siamo un pochino avanti, secondo me, perché Pancalli ha la vista lunga. Il prossimo appuntamento è andare sulle televisioni, e ci stiamo già andando abbondantemente, perché lo sport deve essere visto e ci si appassiona. Quando si parla di grandi donne, ecco Paola e Tiziana, e noi ne abbiamo un'altra di grande donna, che è Patrizia Sacca, che hai un curriculum che è spaventoso, che abbiamo cercato di accorciare. Perché gli ultimi risultati sono terzo posto di categoria e terzo posto nel doppio ai campionati italiani, il 20 marzo, bronzo al Master Open internazionale di Lignano e Sabiadori il 27 marzo, poi oro a categoria a campionato italiano del 2007, bronzo a squadre mondiali del 2006, argento a squadre del 2005, bronzo a squadre per l'Alimpiadi di Barcellona del 92, e più varie medaglie e tornei internazionali. Poi andiamo anche da un istruttore, Andrea Pontillo, però volevo chiedere a te, Patrizia, un commento su quello che è stato detto sinora. Che cosa si sta facendo veramente per lo sport e i disabili? Che cosa stai facendo tu? Non abbiamo molto tempo, una sintesi e poi riprendiamo il discorso. L'unità spinale, la partenza, direi, perché con Ossia Lido, che stiamo parlando degli anni 70, io ero ricoverata proprio a Stolido ed è proprio lì che ho iniziato a fare sport. E tra l'altro è a grandissimo livello perché tu insegna tutti a giocare a ping pong. Sì, ping pong per tutti, piccoli, grandi. E poi spiegherai perché io sbaglio a fare le battute a ping pong, però lo faremo penso dopo la pubblicità e tocca a te. Io sono quella che lancia la pubblicità. Però adesso devi trovare un nuovo modo perché sono stati bocciati tutti quelli che hai fatto fino adesso. Vediamo un po', un'improvvisazione. Ci ritroviamo dopo una piccola pausa. Vabbè questa è ben da sentite, comunque. Ma tutti sono già sentite. Vabbè questa è ben da sentite.